Queste immagini vi giungono dallo stadio Marassi di Genova dove appunto i campioni d'Italia della Juventus tra poco più di due ore alle 16 incontreranno la neopromossa Sampdoria. Una partita che offre un sicuro motivo di interesse per la presenza nelle file della squadra genovese di Lyon Brady, l'irlandese che per due anni è stato uno dei protagonisti dei successi bianconeri. Record di incasso battuto e secondo promesse della vigilia tifo alle stelle, vediamo già che una parte dei tifosi a distanza di due ore sono assiepati sulle tribune e sulle gradinate. Ma forse potremmo dire la stessa cosa se ci collegassimo con lo stadio di Firenze dove esordirà la Fiorentina di Passarella, Antonioni, Graziani e Bertoni o con Verona dove i cinque campioni del mondo dell'Inter più Müller dovranno vedersela con la neopromossa squadra veneta rinforzata dal brasiliano Dirseu. O con Cagliari dove gioca la partita d'esordio la promettente Roma di Lidl. Insomma comincia con oggi una grande avventura che domenica per domenica fino al mese di maggio accenderà entusiasmi, provocherà polemiche ma soprattutto, e questo è un augurio, divertirà e appassionerà gli sportivi.